Siamo in live, buonasera a tutti, salve salve Buonasera a tutti, buonasera a tutti Scialve, scialve Fatemi abbassare che qua, cioè, sento solo il gioco Sì, sto a gioco quando si apre Cioè, quando lo si abbassa, sparisce la musica Odio e volume, no, c'entra niente Modalità facilitata per streamer Ah, per evitare di includere musica su licenza Ma cosa, ma noi la rischiamo Noi la rischiamo, che ci frega Che ci frega, namo Anche se vorrei sentire dalla musica Copyright Pre in realtà Ragazzi, bentornati nel bellissimo mondo di Disney Spinsor, di cui Sara non è in fissa con questo gioco No, questo livello qui sopra è una roba no Qual è il livello? 18! Sara! Io gli devo aprire quella scatola Però mi sta fissando l'anima Prima prendo l'oggetto Dov'è la scatola? Sotto, scatola universale gratis E dov'è la scatola? Ah, scatola giornaliera? Sì, è giornaliera, sì Ah, devo aprirla, non riesco Buonasera Micheli Ok Poi che hai visto gli occhiali Eh sì, è quella roba che riscatti giornalmente Che palle, che brutte cose ogni volta Brutti aiutanti Sì, infatti ho notato È raro che ascano i personaggi Il Mulan Cosa inutile, Mulan Ok Io ancora devo capirlo un pochino Però vabbè Perché non mi si sta collegando il controller? Scusate Ho il bluetooth spento, ecco perché È bellissimo, va bene tutto viola Madonna Ma ce ne avevo 400 Me ne mancano 100 Per avere il paperino così viola Per avere il paperino? Ma come prendici un personaggio? Guarda che basta giocare un po' online Cioè con Circa 20 partite te lo fai Cioè arrivi a 500 Va bene Dai Ma dov'è il paperino viola? Ah, ma non è viola, dai Senti Dai, è bellino Ma è palesemente blu Ma cosa viola? Ah ragazzi, salve a tutti Cosa devi pensare della musica punk? Ragazzi, siete in 8000 stasera Che è successo? Vi siete esaltati che giochiamo a Disney Speedstorm? Tutti pronti, tutti pronti Vedo la musica punk È viola per daltonici Ecco Cioè guarda È azzurro C'ha solo i risvoltini lì viola Ma per questo C'è anche un po' la giacca e il cappello Mi piace anche come hanno fatto la decorazione del cappello Mi piace Ma è blu È blu Allora mi piace Anche Topolino Madonna quanto è brutto Topolino No, Topolino è veramente sceno Scusami, eh Cioè nel senso Non c'è paragone tra Paperino e Topolino Paperino viola sembra un rapper È vero Yo, 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 yo Ok, allora Io non posso più riscattare Topolino sembra retro Sì, è vero Sì, è vero Va bene, dai Avvia sta partita Sì, sì Sì, sì Sì, sì Re a gara Partita casuale Giri 2 Velocità alta C'è altissima Più alta Facciamo più alta Come velocità Mi piace un sacco Mi piace un sacco la velocità più alta Ok ragazzi Unitevi Aspetta, devo abbassare i nostri cam Lo so Lo so Non si vede in cam Lo so 1 e 2 E giù Facciamo così Non troppo Eh no, così continua a non vedersi la Q Sì, si vede Si vede Non voglio metterlo troppo in basso Ecco qua Troppo in basso mi dà fastidio Ok Ok, perfetto L'hai messo in primo piano Ottimo Alla Q 2 E' entrato il primo pappagallo Vergogna Giulia Stavo ancora cercando di capire dove stavo Ok Ci sono Tututututututu Ah lui No, non mi interessa Vediamo un po' Per ora Chi è il più cazzuto? Boh Io mi sono stata benissimo con Belle Devo dire Con Belle E Stitch Non so Siano i più forti Secondo me Almeno per come gioco io Poi magari Ragazzi Dopo ci facciamo una partita tutti con Pietro E lanciamo Ci lanciamo la merda a vicenda Comunque mi piace che gli hanno ridato il design retro a Pietro E pure la voce infatti Proprio la voce da vecchio televisore Ecco vedi pure con Mac ti mostrerò un co Infatti Esatto Pure Gaston a me non dispiace Non mi ricordo che verità c'ha Ha la freccia Voglio Gaston Ade non mi piace per niente Mi sento a due male Allora Io provo 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 Bello che c'hai tutti i personaggi per poter giocare Mi provo la bestia Ok Sto leggendo le abilità Vai ragazzi Q2MM7A 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 Potere del tutto inutile Più che altro gli altri C'ha tutti i poteri che durano qualche secondo Nel senso Ti restano nel raggio qualche secondo Questo invece no Io mo me devo ricordare come si guida con questo qua Perché di solito uso la Switch Ah più o meno è uguale no? Cioè simile Più o meno Sì e devo riprendere un secondo i tasti però sì Dai entrate entrate Dai 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 O se no facciamo un giro intanto così Di riscaldamento così intanto mi ricordo come si gioca Io non ho neanche controllato le sfide giornaliere Vabbè andremo a caso Andremo a caso Comunque con Luigi Mansion mi sono volate le due ore Ho passato tutto il tempo a aspirare roba Sì Sì No c'è una certa c'è stato il silenzio di tomba Perché ero troppo concentrata a aspirare roba Ho cambiato la velocità d'altissima Non mi si è cambiata Ah no ok mi si è cambiata Ciao Ciao everyone Do you want to play with us? Ma l'immaginazione è l'immaginazione Quindi è tutto immaginario Esatto L'immaginazione è essa stessa l'immaginazione Che potere inutile Come no? Scaricatelo È gratis È gratis È gratis Free free On Steam Switch Nintendo Switch PS5 PS4 Xbox Tutto Comunque allora Pappagallo Bene nel senso che ho finito la prima parte E mi sono messa in seconda a guardare un po' di pietruzzi da trovare in giro Insomma diverse cose Però bene Bene Mi diverto troppo a lottare contro i fantasmi Lottare contro i fantasmi è troppo divertente Vedrai più avanti quando devi incastrare tutte le abilità Che sei tipo Aspetta che cazzo devo fare? Sì Commodore 64 Smartphone Vecchio Nokia Tutto Tutto Che figo Livello 45 Ci saremo letali Perché Sì Che bellissimo Se vedi tipo le partite di quelli che hanno i personaggi a livello 30 Sono velocissimi E tu sei una patata in confronto Cioè vai a due all'ora Sì Sì E scusa come fai a fare le partite con livello 30? Eh li fai Perché quando giochi online capiti con tutti Con gente a casa Ma non vale così Cioè praticamente tu livelli da morire Più livelli più vai veloce Eh sì Eh sì Eh sì Però devi anche salire di stelle Per livellare oltre a un certo punto Quindi devi trovare i pezzi del personaggio Quindi è ancora più difficile Nespure Sì qualunque cosa Sega Mega Drive Facciamo un giro di prova Dai facciamo un giretto Eh sì Tant'altro rimaneva tanto il codice è sempre quello Dai proviamo Facciamo un giretto Che poi in realtà se stiamo pochi posso anche fare crea gruppo e Dei fare le pubbliche Vada vada Via Vai E sul Game Boy Color Advanced Bello graficamente A parte i personaggi Questo c'hai ragione Sara Sì alcuni Specialmente guarda Sally dai Cioè Sì La bestia più o meno come design Pure il genio Cioè No Sono tutti troppo squadrati Specialmente Topolino Topolino è tutto sordo Quanto è grossa la bestia Vi meno Vi meno Grande e grossa C'è un vero amico in me No c'è la musica è bellissima Super Tamar Aia Yeee 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 Sape la cosa non capisco i numeri sui personaggi Cioè perché alcuni hanno dei numeri rispetto ad altri Poi posso dire che non è così veloce come me l'aspettavo Altissima Sarà che è pure la mappa che Pochi pad Non è vero la bestia non ha laggato Non è vero Carina la bestia Molto molto carina Questo che faceva? Ah così stordisco Ho sbagliato L'ho spregato Vedete tutte le abilità durano diversi secondi Perché quel povero drago è stato trattato così male? E appunto Ah Giulia Schiat Mi dice assunta capuzzo Fa proprio così male? Ti ho arruttato dietro la schiena Ti sei spaventata Di pochissimo Neppure spinto Così almeno sono arrivata prima Mannaggia Tant'è che chiamo Skywalk Ecco Dipende Dipende Così abbassa la crezza Sara Dai regà unitemi Io vi giuro che passo la vita così A papà Ragazzi Ragazzi Guarda che anche l'altra volta c'è stata una bella sfida Tranne Vaffa che arrivava sempre tra gli ultimi Cioè alla fine c'era Luke Pure Zandar che ogni tanto arrivava primo Scusate eh C'era un po' di sfida Poi è arrivato Skywalk che era fin dalla sfida Cioè nel senso E avevo diventato a mono cosa Sara Non è vero Non è vero No aspetta Mi porti un po' d'acqua please Ok Perfetto Sono di nuovo qua Non sono mai andata via Perché mi sono scordata l'acqua Io non ci so ancora giocare Ma nemmeno io ci so ancora giocare Non ti preoccupare Sì qui ci divertiamo E' una robetta proprio scialla Facciamo un'altra partita? Mhm Però ragazzi se non volete unirmi Facciamo il gruppo e giochiamo online normale eh Cioè Così io tipo sono a livello uno Ah è vero non c'hai neanche i personaggi No Ce ne avete pochi più che altro Ah Randall l'avevo già provato Sì Non mi ricordo chi ho provato e chi non ho provato Volevo provare Jesse Che cazzo fa Jesse? Lei che rompe il cazzo con i cubi Ah Ah Ogni volta nelle partite mi trova Eccolo dai paffa Dai unisci di paffa Fa dei 28 giri con qualifiche cune E poi corsa finale Ok Jesse mi piace rompe molto il cazzo Dai vi aspettiamo Vi aspettiamo Adesso metto impostazioni corsa Mettiamo Ventordici giri No solo otto Ah Jafar invece che fa? No 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 Effettivamente non so cosa fa l'abilità di Jafar Aspetta che lo controllo Controlla Dovrebbe tipo far uscire un serpente Allora lancia un raggio di fuoco in avanti col suo bastone per il periodo di tempo più lungo possibile Uh ok Fico Vabbè proviamolo E caricata che fa? Allora Caricata? Uh huh Sì Allora Caricata invece Lancia del fuoco sul bastone Creando muri infuocati su ciascun lato del suo veicolo Madonna Fico Fico Vedisco quando sono così offensivi Perché almeno rompono il cazzo Oppure vanno più veloci Infatti per questo mi piace sia Belle che la bestia Che altri Perché o vanno più veloci o rompono il cazzo È vero È vero Bella anche la bestia Però anche cosa Usa lì vanno i mostre con Non mi dispiace Io quando l'ho provato Poi si vede che era alla fine Dopo tutte quelle gare Quindi era un po' rincoglionita Nemmeno a parto il gioco Già mi spara Mi nervosi Normalissimo Tutto nella norma Ecco perfetto Isabel Pure è tanta roba Ecco pure lei dovrei provare effettivamente Non è che ancora qualche personaggio Da provarli Voglio provare tutti Tutti quanti Questo gioco mi fa male Niente No io Ah lo sai che Te l'ho detto che avevo scoperto Che in Disney Dreamlight Valley Le lune che io ho preso nel computer Non le posso mettere nella Nintendo Switch In che senso Perché? Perché io le ho ritirate sul computer Cioè ogni piattaforma Alle sue lune Se tu ritiri quelle lune In quella piattaforma Non le puoi Cioè nel senso Non le puoi avere nell'altra Io ritiro Parlo proprio di Loro che te la mandano per posta O tu che le compri Ah Perché 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 sta cosa Non lo so A me mancano Tipo 2000 lune Io stavo là e facevo Ma Ma dove sono? Quindi cioè Se io voglio comprare adesso Una casa Eh non so come fare Boh Ma capisco Apri un mutuo Su Disney Dreamlight Valley Ma allora Io sto mettendo I soldi da parte Perché io voglio il castello Io sto mirando il castello Ma non hai già rifatto La casa tutta figa Adesso E' una roba ancora più grossa E' più figa Eh beh beh Io aspetto Con tanta trepitazione Il castello Dai Faffa Su su Voglio fare una partita Sì Questa cosa è una lune Ma contate Perché hanno certo Ho scritto appunto Faffa Dicevo Faffa Io ho 2000 lune Ma io ne avevo tipo 4000 Dove sono le altre 2000 e qualcosa E quindi dopo Mi sono messa a capire Un secondo E c'era scritto Proprio sul gioco Una cosa piccola piccola Dove si scritta Eh se le compri Sulla piattaforma E rimangono su quella piattaforma E tu sei la Ma che tal Molto Ma forse perché c'è proprio Un prezzo diverso Per ogni piattaforma Forse Boh Boh Che voce brutta Sì Sì Il mio personaggio È usceno La sua voce Cioè Faffa Hai messo Paperino Niente Adesso perderà Malissimo Madonna Brutta Jasmine Oddio Pure Jesse Sì I capelli di Jasmine Sono usceni Più o meno Invece il corpo Ci siamo Però vedi Poi È tutto così Realistico Tutto intorno Boom Eh Ma questo è un Pappa Via Mazza quanto dura Il drago Oh sì Guarda quanto Cazzo dura Ma mi spare No Porca troia Madonna mia Vi ho lanciato le palle Sì vi ho lanciato le palle Voglio le persone A livello 45 Assolutamente Voglio tutto A livello 45 Piatevi Questi pubi Guarda Via Veloce Ma Guarda 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 Di tutto Sta succedendo Comunque Siamo tutti Molto vicini No Ho preso Il muro Adoro che Guarda 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 Col bastone Col bastone Ti acchiappo Ti acchiappo No Ero più lì Per spintonarti Ti ho mancato Tantissimo Ti ho lisciata Guarda Guarda Avete tipo Problemi De internet Quanto mi dice Sì non se sa Perché sui server Di speedstorm Cioè Boh Ah sì sì Sono andata Contra lo stesso Muro Dieci volte Vai vai Mi piace Jafar Io voglio Provare Woody Woody Lancia un lazo In avanti Se colpesce Un apprezzato Scatti Coprendo la distanza Più lunga Possibile Non manca Scatti Dopo la distanza Dopo la media Quindi Corro Io la rischio Io non so perché Ma mi sa che Anch'io ho problemi Di linea Guardate la mia Telecamera Cioè non sto capendo Però a me non mi dice Che ho problemi Di linea Guarda Ma aspetti Si sta vedendo male Fammi un attimo Dere su OBS Però dice che Io ho problemi Di linea Quindi non sto capendo Però la live Va Tranquillamente Scatticchi Perché Giulia Anche sta giocando A spizzo Nella vita vera E quello Quindi sta andando A scatti Boh A quanto pare Regà Cioè non sto capendo Perché vado a scatti Giulia e Vanelo Mi sta glicciando Mi gliccio tutta Tipo Barry Allen Oddio A me piace un sacco Corre in regà L'avete visto In i takes Quanto mi divertiva La parte dove dovevo Gareggiare contro Sara Erano le uniche cose Che vincevo Honor Allen Decidete voi Si si Adesso iniziamo Mi piace proprio Driftare Con questo gioco Da una soddisfazione E poi non è collegato Col salto Dipende Dipende se Prendi il pad Per terra Se prendi il pad Per terra Alla fine Ti dà pure La spinta finale Però Pappagallo Che prova La bestia La belva Giulia Toretto Giulia Toretto Ma che macchinone C'ha Woody Mamma mia Tutti col turbissimo Non ci lascerò Le penne Ma toglie Regà Otti Esplodiamo Chi era Giulia Ci ha distrutto Te vai al contrario No Lo sono fatto da sola Chi è che me l'ha fatto a me Non lo penso Sta capendo No Esplodo Regà È bellissimo Giafar Ho preso Faffa Arrivo Basta più No Ho preso il muro Smettila di fare qualcosa Maledetta Non riesca a passare Non riesca a passare È letale È letalissimo Cioè Non c'ha paragone Chiacchiappo Mamma mia Se ti acchiappo Non ti riesco ad acchiappare Guarda Non c'è pure le cose dietro Maleducata Dai dai Sì No No Non hai le spalle Sempre Mi piace il pastore Di Giafar Dove cazzo è Giulia L'ho persa Eccola No Ho preso il muro di nuovo Ma perché No regà È stupendo Giafar Ora che Ho usato la tecnica Cioè regà Se sei primo È la fine Sì Perché non si riesce A passare avanti Dai Hai rotto il cazzo Ti stavo dietro nel culo Ti stavo Non riuscivo a pensare mai Regà Bellissimo Cioè Io non so Se hai rimandati la live Eh sì La live La Fa fa Ma Tu Ma Io ogni volta Che provavo Stavo lì Per superarti Mi beccavo Le tue fiamme Bellissimo Ma Non è che È lento Il drago Perché è proprio Una pippa Cioè Se avesse un'abilità Che facesse qualcosa Di effettivo Sarebbe diversa La questione Lei è bellissimo Io Li voglio già fare Mi sono innamorata Anche lei ha un bastone Sara Eh sì Infatti Volevo Volevo avere un po' Di competizione Tra bastoni E chi ce l'ha più Due A quanto pare Giaparre Ha un ottimo bastone Il mio bastone Va avanti e indietro Fa l'elicottero Oddio Sai io non so Se devo andarti La cosa o meno Cioè Non lo so Vuoi rimandarmela? Te la riga Guarda la rimando Dai Dai rifalla al volo Allora Mi sfida tra bastoni E questo è in avanti Questo è È intorno a sì Allora Aspetta Devo cercare Discord È un ottimo bastone Già parvo Per quello Allora Te la mando Sulla chat privata? Yes Dove Praticamente La nostra chat È solo di Link di video Sì Ragazzi se volete Entrare su Discord A farvi una chiacchiera Mentre giochiamo Potete tranquillamente Vi spostiamo Mi piace appunto Perché Cioè Insomma Ti diverti Regà ma è bellissimo Mi sono innamorata Visto È È Sala Svettila di giocare Sala Svettila Non si sta mettendo La cam di Giulia Ok si è messa Aspetta e cambia anche questa Eh Che ho preparato anche questa Scusate Perché sai Ah ok Sola 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 Ok C'è tanto gatto Nella tua camera Niente continua Sì c'è il mio C'è tanto gatto La mia telecamera fa schifo Vabbè raga io so che dirvi Cioè La wifi qua mi dice Che vado bene Boh Boh Proprio strano Niente Non mi vedete oggi Basta Oggi è sfocata Cioè Non so se è meglio Mettermi sfocata Oppure a questo punto Senza telecamera Cioè Guarda che disagio Ci godo Ci godo Ci godo È anche la mia mappa Di tuoi stori Fica Adesso ci fanno vedere I personaggi 42 volte Non fa come non fare niente Per un minuto Giulia Stai ferma Io devi stare ferma Devi stare Ma dove cazzo vai Devi stare ferma Devi stare ferma Ti vedo lì all'angolino Ti ho visto Tendo davanti Giulia Mi chiedo Mi chiedo Mi chiedo Mi chiedo Mi chiedo Mi chiedo Perché anche Giulia Quando siamo in due In live Anche lei Quando c'è solo una persona In live No raga È bellissimo Lui sta continuando Ad andare Perché rotola Verso le frecce Quindi va Eccolo Ora sto andando Ora sto andando In la direzione Sbagliata Ok Adesso sto scendendo Quanto devo fare Quindi È ancora 20 secondi Aspetta Vai Vai Faffa Vincila È il tuo momento Il mio Il mio Personaggio Vaga Se state notando Sta proprio vagando 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Vai Vai Giulia Vai Giulia Ce la possiamo fare Ce la faremo Oh Beh devo dire Che io sono vicino a loro Quindi mi sembra Come se Effettivamente Sto gareggiando Proprio Cazzo è questo Oh Ha dato una ragione Che mi ha fatto Sì 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 È bellissimo Ma che figata Sì Uh E recuperi tantissimo No Non so dove sono andata Vai Ma Intanto vedo Giulia che si glitcha Perché usa l'orologio Sì Lo sto raggiungendo Piano piano Sara Pure te ti glitchi Valissimo Eh sì Perché stiamo usando L'orologio Di nuovo Ok Se lo si caricato Fa schifo Ti porta appena appena Un po' più avanti Dai 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 Dammi un'orologio Dammi un'orologio Che mi taglio le vene No Oddio Maledetti Come il giocatore Giulietta È stato disconnesso Ah ma sono rimasta Solo io Fa bollino Che sei rimasta Non ti vedo Eh sì No Io vedo Sono stati tutti disconnessi In che senso Niente Allora è colpa tua Sara Che la mia video camera Fa schifo Non è internet Ma 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 Ah no Perché avete finito Ecco perché Però vedi che continuo a dire No perché Avete finito Sì sì E cioè La cosa che la vuoi fare Grossa quanto una casa Ma no Perché avete finito Voi quindi Facendo ok Ehi è come se Scusi dalla Ah 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 Allora io sono di nuovo lì Lo faccio le fotine Sono la vostra mamma del gruppo Così faccio le foto Ma perché che fanno le foto scusa Non mi ricordo Però lì lo fa le foto Aspetta fammi vedere Che fa Assurdisce Non è vero No La velocità massima di Lilo Aumenta notevolmente Con ogni foto scattata Quindi più foto faccio E più vado veloce Capito È un influencer Lilo Posso fare una pauta a bagno? E ormai siamo partiti Siamo partiti Hai messo pronto Pure tu Perché hai messo pronto? Bella Dovevi togliere il pronto Ti avremmo aspettato Sì infatti Adesso poi si lancia la merda Guarda Prima mi deve Mi deve superare Uh Sono stata l'unica Che l'ha preso? Sì Faccio le fotine No 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 Giulia vieni qui Fatti fare le fotine Ecco Anche Pappagallo Facco le fotine Vieni qui Fatti fare le fotine No Smettila Mamma mia Sto arrivando Sto arrivando Sì Guarda Che vuole fare subito La magia Lì La cosa Del bastone No Maledetto Oh Pappagallo Sta comandando In questa partita Chi mi ha lanciato Un asteroide? Secondo giro Faccio le fotine Non c'è nessuno Non c'è nessuno a cui fare le foto Sto notando Siete spariti Dove cazzo siete? Ah 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 Giulia indietro Ci piace Così non rompe il cazzo Con quel bastone Sto arrivando Sto arrivando Non ci lancia Le sue Scorregge puzzolenti Ai lati Io ogni volta Cazzo In questo punto Non si sa Per quale motivo Non riesco a centrare Quella linea del cazzo Oh Pappagallo Vicinissimo È arrivato Mamma mia Ma te è finita Sì No Pappagallo 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 Niente Guarda Pappagallo Solo con due Due decimi di secondo Niente Proprio Minchia Ha tratto il suo personaggino No Giulietta No Giulia Giulia No Giulia 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 Però sono tornata Con la telecamera Ragazzi Vedi Vedi Poi davi la colpa a me È di tu Era la tua cam No è sempre colpa tua Era la tua cam Che non voleva Allora Che cazzo fa lui Vediamo un po' Ah Cosa che rompe le palle In questo modo Bene Pappagallo Mi ha fatto io Che mi ha detto Non so se mi collego E stai giocando con noi Va bene Adesso L'ho fisso il vessaggio Che è un po' Stai giocando Gli avversari Una rampissima Mmm Ma sì Mettiamolo Andiamo al Dottor Jumba Jumba Sarà bevi Bevio Va bene Va bene Le 10 e 30 Vai via Diventeranno E 40 Poi 50 Se si fa bene Pappagallo A provarli Tutti quanti Poi vedi Hai visto E trovo pure un personaggio Con cui ti trovi bene Con cui sei bravo Io amo Jafar Povero Paffa Nezzo Se vuoi giocare anche tu È apertissima Vai Si gioca con personaggi A livelli altissimi Quindi è molto divertente Sì 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 E Giulia lancia Puzzette a destra e a sinistra Ci fa male Quando Giulia è in testa Niente Tappatevi i nasi Domanda Domanda Ma è il simbolino Che avete voi Tipo il libro Tu hai Mulan Io ho Hercules Che cos'è E niente È la tua icona giocatore Tu non l'hai neanche cambiata Immagino No Vedevo solo Hercules Quindi non stavo capendo No no È quella del tuo profilo Personale Che puoi cambiarla E vabbè Poi dopo la cambiamo Tremendo RS Vediamo tutti questi numeri Mappa di Monsters & Co Ma dai Tutti col turbo Fighissimo Siete partiti Ma non va bene Piedevi le mie fiamme Le mie puzzette fiammeggianti Ok È la mia abilità Ti faccio esplodere Se sei prima Ti faccio esplodere Così non rompi le palle Letteralmente Solo con i primi Mi ha appena detto La connessione di Giulietta Non è instabile Vedi 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 Fa un po' come gli pare Sto gioco Deve essere un pochino Ottimizzato Un pochino Arriva Pallentino Giumba E dai Ho preso una bomba Lasciata da qualcuno Per terra Ma chi è che Lascia le bombe Madonna quanto è bello Mi dà fastidio Stai dietro a Faffa Mi dà veramente fastidio No Ci meniamo a vicenda Guarda No 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 Yes Dai Ma la vera domanda È dove cazzo è Giulia Ti è piatti questo Eccolo Yeee Ma ti sei parata Maledetta Oh ho visto male No no Mi hai preso Mi hai preso Smetti a riparare le puzzette Ma c'è il modo di pararsi? Certo Se trovi lo scudo Quello verde Ah lo scudo Eh vabbè Campacavallo Sì Che culo Sono riuscita a passare L'ho ripetato La medusa Quella quel cazzo Che passavo Infatti non ti vedevo Dicevo Do cazzo sei passato Sono invisibile Vada papà Vedi ma papà lo sta recuperando Sì ho notato che eri secondo Poi niente Poi ti ho un po' Ti ho un po' bullizzato Ti ho fatto diventare Allora aspettate un secondo Che vado a vedere Questa cosa Allora quindi tu hai detto Che sta No RS Senza che esci RS Tasto RS Sono proprio uscita Perché Perché questa cosa da boom Non mi riuscire Sì vabbè Si vede RS Dov'è Gruppo No Ah ecco Caccore Ok l'ha trovato Ha i distintivi no? Non mi ricordo Come si chiama No non sono i distintivi Dov'è Amici No dov'è Non mi ricordo Forse è altro tasto Vabbè sì Info Piloti Obiettivi No sono gli obiettivi quelli Intanto mi seleziono il prossimo Come si va? Sul tuo profilo Sul tuo profilo Ma lo sto vedendo sul mio profilo Ma non va Sul tuo profilo Modifica info forse? Sì certo Certo L'ho trovato Ce l'ho fatta Metto questo E Seleziona Ok Ok Perfetto ci sono Adesso entriamo Pista privata Se non mi sbaglio Zandark l'ha mandata un po' a tutti Se non mi sbaglio la richiesta A parte che io non ho visto se No 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 Mi ha attesa qualcosa Bellissimo che Giulia non mi ha neanche accettato Tra gli amici Dove? Perché c'è Ah Allora aspetta Giulia non mi ha accettato tra gli amici Questo è proprio Non c'ero mai finita nel coso degli amici Pensa me lo sta spiegando adesso Ma non mi è arrivato l'invito Ah eccoli Ah no Ricevuti Allora accetta Io ce l'ho Pagato Sì sì E accetta Adesso mi ha accettato Giulia Capito? Ora Sì Sono solo 20 giorni che dico Giulia Speedstorm Vai Vai ci sono Ok tutti i brondi Ah sì Aspetta Ok sono pronta Che fa? Coso? Ehm niente Rompe il cazzo con le navicelle Wow Con le polveri Io assolutamente in fuoco tutti No rica mi sei innamorata Cioè devo trovare il modo di sbloccare Giafar E se giochi lo sblocchi più avanti Perché trovi parecchi pezzi Quindi alla fine ti bastano due casse e lo trovi Sono trattato nelle casse universali Dopo un po' che Perché qualche pezzo te lo danno E qualche pezzo lo trovi Madonna quando carica il gioco Non si sente più Sara Cosa? Eh non ti sentivo più Ah È la tua connessione Non lo so No no regà non vado Aia Sì È Giulia La connessione di Giulia non è stabile Regà greve Che è successo? E se sei scollegato a Joymon Ci piace ci piace Eh niente E beh devi usare l'orologione Ce la fai a recuperare No ho preso la lava E' vero che sento Giulia che infila cose Dai Ok È andato? Teoricamente Ti vedo ancora ferma Ti vedo Bello sono caduta Ah io sono penultima rispetto a loro due Io non sto capendo un cazzo Ed è giusto così Ma dai ma fa schifo sta abilità Non prende niente a nessuno Chi è che ha preso un muro? Jack Sparro Secondo giro E sento anch'io le batte al microfono Le vedi infatti Sente Giulia che litiga con i cavi Regà perché so prima? Che senso sei prima? Non è vero Mi ha scritto uno Che cazzo dici? Non sei prima Oddio mi hai fatto distrarre Il giro magari No Essere prima Mi dice uno su quattro Lo sto capendo infatti Non sono quattro giri Sono due giri no? Sì Due Boh Vabbè Stregoneria Ma più che altro dov'è il primo? Io sono seconda da una vita Chi è? Megara Che dovrebbe essere Faffa O il pappagallo Non mi ricordo Ma regà io non sto capendo niente Dove si è? Guarda sei vicino a Jack Sparro sei Io sono terza Perché non sei mai stata prima C'era scritto prima Ma si sarà glitchato male Forse è dato l'orologio Eh pappagallo era primo Vedi? Regà vi giuro c'era scritto primo Ti giuro Ti giuro No non Se no perché lo dovevo dire Non aveva senso Però mi giuro Ti ha scritto uno su quattro Io ci fa che cazzo Oh pappagallo Quasi 15 secondi di differenza eh Cioè dal primo al secondo È stato grande Un'altra partita Che qua mi sarà bloccato E quasi 20 secondi rispetto a Faffa Un mostro Vai vai Un'altra partita Perché mi sarà glitchato tutto Io voglio provare Che mi manca Che mi manca Che mi manca Elisabeth Swan Come si fa a entrare Allora devi inserire il codice Devi andare su multiplayer Hai già giocato Hai fatto ritirare i capitoli principali Sicuramente sì Guarda questo qui è il codice Qui sopra 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 Devi indicare sopra di me Sopra Vai indica tu sopra di te Ecco Perché sopra di me O te Quindi Mettete il codice Giulia Per avere Niente Ma è una gioia Una sfiga Otterrete Madonna Troppe anche Allora no Devi andare su Multiplayer Gara Gara Come si chiama Gara privata Gara privata Tipo Il lago dei cigni Non è Disney Le basi ragazzi Le basi Questa è molto divertente Quando ho visto Swan Ho pensato a Emma Swan Dicero una volta Dicero una volta Poi ho visto pure Carabin Ho detto Ah ma è lei E poi no Però adesso Anastasia È una domanda Trabocchetto In che senso Anastasia È una domanda Trabocchetto Teoricamente Adesso Anastasia Sarebbe Una principessa Disney Teoricamente Perché la 20th century fox È stata comprata Dalla Disney Però è sotto È come dire Che qualunque Principessa Nella Marvel Cioè È come Merida È come Merida Nella Pixar Sì ma a sto punto Anche tutti I regnanti Del mondo Marvel Sarebbero Principesse Disney E principi Disney Quindi Esatto Tutti Esatto Teoricamente È sotto Sotto Disney Vai Vado Vai Sara Stiamo partendo Adoro Sta mappa È proprio Carina Mi piace Che a te Ti parte subita A me ci mette 80 anni Però poi Sta due ore A fissare i personaggi Comunque Poi Adoro Che Paperino Vuole menare Tutti Sì Con Paperino Aia Chi è che ci ha fatto Zompare tutti Madonna Regà Infatti Chi è Piatevi sta Sta cosa Volante Ho preso Pappa Mamma mia Mamma mia Che cazzo Fa stabilità No ma Vi siete tutti Due Medosizzati Lì Ma che roba È Giulia 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 Non dico Altro Da dove Ok Ma bellissima Stabilità Aiuto V di È cattivo Ma non mi Prende I cosi D'aria Se sono Invisibile Interessante Molto Molto Interessante Vediamo Oppa Chi è Budi Non mi Ricordo È Ah è Netsuko Giusto No è Bravissima Oddio mi Mena Non mi Avvicino Mi piace Che Pappagallo E Faffa Se le Stanno Dando Di Tanta Ragione No regà Io qua Ogni volta Mi perdo Questa strada È perché C'hai più vie Dio La sfida Finale Ma Per pochissimo È stata veramente Combattuta Con Netsuko Cioè Sono stata Molto Dietro Io Ho Perto Tutti Mamma Mia E Faffa Ultimo Salve Salve Vuoi unirsi Alla partita Ciao Ciao Io mi ripeto Andaravanti a giocare Perché è Papirino Il problema Cambio Personaggio Cambialo Io mi metto Mi metto Mi metto Che mi manca Da provare Papirino L'ho ancora provato Effettivamente Che fa Papirina È letteralmente Come Come Papirino Grazie Gabriele Allora Si chiama Disney Speedstorm È gratis Però se non c'hai mai giocato Ti devi fare Per poter giocare Multiplayer I primi tre capitoli Che sono tipo Il tutorial Diciamo Del gioco Quindi Non puoi saltare Quel tutorial Te devi metterli A fan paticare E Poi puoi giocare Con noi Però è molto carino Molto simpatico Ci sono i personaggi Disney È cazzutino Perché Non è una cosa Muscetta È cazzuta È simpatico Adesso Adesso Si Molto meglio Di Papirino Adoro che si metta Sempre quel drago Comunque Luigi È gratis Su tutte le piattaforme Quindi Qualunque cosa Tu abbia Lo puoi scaricare Eh sì Vai 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 Faffa Pronto Su Sta scegliendo Ho cambiato Questo topolino Ecco Mi piace di più Questo topolino Qui della Steamboat Rispetto a quello normale Lo normale Non mi piace Sono veramente carini Le mappe Però sono stati un po' Paraculi Perché Non so se ci è fatto caso Ma spesso e volentieri Mettono la stessa mappa Ma al contrario Sì E quindi È talmente particolare Che non me ne rendo Conto più di tanto No Sì pure perché poi Ci sono scorci nuovi cose Cioè sono Ben gestite Guarda pure lì sopra le porte Cioè Tutto molto carine Non ho caricato per niente Mi sono dimenticata di caricare E vabbè Sara Guarda 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 La tronzetta Già prima Non provare a fare Puzzette Non provare a fare Puzzette laterali Sarà disponibile Anche su tavoletta Grafica Assolutamente Sì Per me Sì Ah Mi sono parata Incazza Cioè Vabbè se Uso lo scudo E mi paro da un attacco Poi si incazza E fa danno Fantastico Fantastico Te Giulia T'ho preso o no Non t'ho preso No Oh yes Cioè 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 Ho preso Fappa Non ho Volevo prendere Giulia Con quello Non lo so Che cazzo è successo Che cosa Oh, madonna quanto è potente Chi è? Topolino Sì, sì Odio Paperina Canta Topolino ha sia l'abilità del turbo Che ti fa andare veloce tutti Che quella roba lì che rompe le palle Fico Topolino Oh, chi è sta cosa? Ma no Se io non prenderò mai più Paperina, canta troppo Sì Canta Io non neanche mi ricordavo, ma canta Paperina effettivamente dentro serie e cose Wow, oddio Facco tanto I personaggi sono facili da sbloccare o bisogna shoppare? No, calcola, sono quasi tutti sbloccabili giocando Cioè più giochi e più è probabile che li sblocchi Perché ci sono le casse che puoi aprire tramite Che cosa è successo? Perché Faffa è secondo? A me si è tolto subito Aspetta, com'era la classifica? Com'era, com'era? Che cosa? La classifica Vedi, Faffa è la seconda Allora il mio gioco è detto Basta, doppio click Doppio click Non l'ho visto Voglio provare anche Angel Così Allora, voglio vedere anch'io Ma perché cantano i personaggi? Anche Angel canta Ok Oh, figa Jasmine Voglio Jasmine Oh yes, of course Dunque Luigi Non è un gioco shopposo Cioè se vuoi puoi anche shoppare Ma alla fine puoi shoppare veramente pochissimi personaggi Che è successo? Si è chiusa la stanza Stiamo giocando noi Ma come state giocando? Io sono fuori Perché io sono fuori Ti giuro Stiamo giocando Ma come? Stiamo giocando E niente Stiamo giocando No vabbè Intanto mi preparo il codice per dopo Ci guardo Ci guardo Però mi sa che raga è rimasto bloccato Perché stiamo vedendo tutto il tempo i personaggi Mi ha detto Errore Codice 10 Che cazzo è poi il codice 10? Ah no Eccolo Adesso giochiamo Bisogna giocarci un bel po' No in realtà dopo la prima mezz'ora Già sblocchi tanta roba Cioè nel senso sblocchi Topolino Paperino Pippo E Mulan Dopo la prima mezz'ora E poi niente Andando avanti Facendo gli eventi Le cose Cioè più giochi E più sblocchi Tipo puoi sbloccare Jasmine Praticamente subito E puoi sbloccarti dopo un po' Anche Jafar Se ci giochi un po' Al momento Siamo arrivati col pass In un punto dove Con altri due frammenti Ti puoi sbloccare Mogli Quindi sì Tanta roba Beh è figa Jasmine Raga È lenta da morire Sì Mo' perché tu ce l'hai al 45 Però se non prendi i pad È lenta da morire E più che altro La sua abilità è strana Nel senso lanci Raja Eh no Dico quello è figo Cioè non so dove cazzo Sta andando Raja Però Allora 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 Non so che cosa è successo Faffa sappilo Intanto sto mettendo Il nuovo quadrice Della stanza E lo pinno Ecco Se volete partecipare Oddio raga Allora Jasmine Però mi sembra Un film porno E le voce Mi spiaccino Sì ogni tanto È un po' greve Sì È veramente greve Luigi però Se vuoi partecipare Puoi scaricarlo Su qualunque piattaforma E unirti a noi Devi solamente giocare Adesso ha fatto Raja Raja Ha vinto Ha vinto Ha vinto Ha vinto Ha vinto Ha vinto Prima Secondo Faffa Terzo Zendark E tu Ultima Ma io c'era il mio personaggio Lì almeno Diceva disconnesso Ah mannaggia Se c'era il mio personaggio Era carinissimo Pg Exibit Che arriviamo Vai usciamo Di dove siete Roma Roma Allora Pg Exib Eccomè Certo Tutte scuse Tutte scuse Sono partito 20 secondi Dopo di voi Ok vai Riproviamo Bell Bell è fortissima Poi l'unica cosa Vabbè l'unica pecca È che quando usi il turbo Lo possono usare Anche gli altri Però Quando metti i mobili davanti Rompe veramente il cazzo Vai ci riprovo Meno male che Perché non pensavo Che partisse Meno male che Giura lo ha urlato Io Sono pronta Manca nezzuco Manca nezzuco Ti aspettiamo Mi piace che tutte e due Ci muoviamo Tipo seguendo la canzone Sì È un problema La musica in questo gioco Ma io vorrei provare A mettere quella Stavo ricordando Che tu eri infissa Anche con il gioco Quello là Cart Rider Drift No ma eri più infissa tu Su quello Dai Però No aspetta Eri più infissa tu Un po' tutte e due Inizialmente Tutte e due A giocare Non so quante partite Tutte e due Aspetta Lo cambio Se bisogna mettere Il codice Minuscolo Allora Just a second Fatemi copiare Quello che ho scritto Io l'ho messo così Così si vedeva meglio Pa 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 Allora Pg E X I B E pin Però mi diverto più Giocando con voi Non lo so Da sola Dovrei mettere un secondo Al computer Ma perché non c'è voglia Di sbloccare i personaggi Se ti viene la voglia Di sbloccare i personaggi Alla fine Alla fine Di solito A me viene Nel senso Mario Kart Mi piaceva tanto per quello Però boh Non lo so È successo che è cambiata la stanza È cambiata la stanza Che mi ha buttato fuori Non ho capito perché Io sono il leader Mi ha buttato fuori Quindi abbiamo un nuovo codice Io ho messo la musica Quella non copyrightata Voglio vedere che cazzo Di roba mettono Secondo me è una roba Trescissima Ma si può ragazzi C'è questa funzione qui Tipo Come si chiama Aspetta Dov'è Gruppo Ecco Entra in un gruppo E poi inviti Credo O disponibili No Vabbè Insomma C'è questa funzione Gruppo E penso che si possa giocare insieme Nel multiplayer normale Ok Oh bravo Lo sto scaricando Bravissimo Bravo Luigi Vai Dai dai Così ci divertiamo tutti insieme E quanto dura Fai tre capitoli Secondo te Una mezz'oretta Pure di meno Appena sblocchi il multiplayer Faccelo sapere Luigi Così puoi unirti a noi Tutti i capitoli un'ora Solo tu un'ora Faffa Solo tu Cioè Paffa che non l'ha fatto In mezz'ora L'ultima volta E l'ha fatto Nello stesso momento tuo Praticamente Al contrario Au contraire Attenzione Mamma mia Perché tutti qui siete Siamo tutti appiccicati Oddio Odio i personaggi Che cantano Qual è quello che canta? Pure Angel canta Sì? Sì Non ho capito perché Questa tortura Non ho pagato il volato di sotto Arrivo Giulia T'ho preso No non ho preso Io come faccio A evitare il treno Più che altro Devi saltare Ah è vero C'è la cosa del salto Ma devi sfruttare Ok no L'odio veramente tanto Angel Fa un casino Incredibile Che è successo? Che fa? Non lo so Mi avete tipo Lanciato la peggio roba Non ho capito un cazzo Che dovranno invertito Pure No Invertito no Non riesco a prenderla Solo serio Angel Ok che mi ha lanciato Una roba volante Incredibile Eh Eh Zender Eh No Ah Sei te Faffa Che fai sta cosa No 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 Zender Madonna Ho fatto proprio schifo No non più Ma come Ma bella è fortissima Porto a casa Ah A me è rimasto Solo quel È tipo Aladdin Mi è rimasto Da provare E che fa Aladdin? Eh Non lo so Anche Topolina In realtà Minnie Topolina Sara Topolina La Topolina Ti ricordi che c'era il periodo dove la chiamavano Topolina? No non ce l'ho mai avuto perché leggevo i fumetti Dai Era un sceno Ogni volta Topolina Ade che fa? Ade Si rilassa o si incazza Sì letteralmente Quindi deve sempre passare qualcuno vicino Ah no Cioè non è il massimo Quindi se sei primo non è il massimo Se stai dietro Allora Shang Hercules Mogli Baloo E E E E Buzz Mi mancano Io so Tantissimi personaggi Comunque Proviamo Minnie Dai Ma perché canta pure Minnie? No non la fai Perché cantano? Ah Vabbè siamo tutte e due Topolina Siamo tutte e due Topolina Topolina l'ho messa io Vediamo Ok Aha Ma dai ma che schifo di abilità è Praticamente aiuto più gli altri che me stessa Vabbè Topolina Ora siamo le gemelline io e Faffa Non saprete mai chi è chi Tremendi Comunque la pista quella lì Di Topolino è odiosissima Tutte quelle strade Non si capisce niente Sì ce ne sono veramente tantissime scorciatoie Esatto esatto Facciamo vicenda Facciamo tipo le gemelline di Shining Capito Unite Unite Madonna quant'è quadrato Buzz Fiamme E niente Dai ma di pochissimo Giulia Ma dai ma che turbo di merda è No ha preso il tronco Hello 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 Yes Eccoci Le gemelline in azione Chiunque Chiunque sta dietro di me Occhio Arriva Ho preso il tronco Ho preso i baffanuboli 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 Adoro che Topolina proprio si corsa Cioè Rischia la vita E sta per uscire dalla macchina ogni volta che usa il turbo Dove siete? Vi state uccidendo dietro? Ok c'è qualcuno che mi ha appena spintonato Ok No dai siamo arrivati tutti mo Ciò che è successo Ah Giamelline prima e seconda Mazza Se il mini mi piace di più di Topolino devo dire Anche se aiuta un po' tanto Si aiuta un po' Veramente si aderiva tutti insieme Guarda che roba Si Modifica pilota Aladdin no No vabbè Aladdin che fa Lancia i soldi Il tappeto magico Per andare davanti No vabbè Ma vi do una mano con i soldini Ok Proviamo Aladdin Salve crazy Salve 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 Proviamo Ci rimettiamo uguali Come vuoi tu Io voglio provare Aladdin in realtà Volevo provare Perché dai soldi Alla gente Così a casa Salve Madonna sa Sono troppo tentata a comprare L'ultima espansione di Villanus Ma stanno pochissimo poi Eh lo so Ma lo so Mamma mia Non voglio troppo comprare Poi è l'ultima Prima che iniziano Con i singoli Cioè Eh hai visto Sta cosa dei singoli Perché hanno testato Con quello della Marvel Con Venom E hanno detto Vedi i soldi li facciamo comunque Facciamogli uscire singoli E' tanto E' palle Pensa che due Due coglioni Cioè Avrò 800.000 scatole infinite Nella vita Sì Non troverai mai una fine Allora Siamo tutti pronti Perché non va la partita Sta andando Sta andando Ok Prova Emma Prova Emma Ma è molto potente Oh Giulia Prova Adi Non lo so Non mi convince molto Però Invece voglio troppo Le carte di Lorcana Basta Mamma mia Troppo Cioè Più le vedo Che poi già le stanno Vendendo singole A prezzi altissimi Alcune rare Mi stavano dicendo Di aspettare un secondo E Ricompariranno Quando Adesso perché stanno Proprio nel momento Clu Che tutti le vogliono Sì sì Che poi solo in inglese Solo in inglese Comunque sono uscite così Nei negozi Nelle cose Ma secondo me sto barando Che sto usando un tappeto volante Cioè è visto come barare Ma perché mi picchiate Giulia Giulia si incazza Fico Sì ma solo se non sei prima Funziona questa roba Sei prima Aspetta che chi chi è prima qua Oe È pappa Pappa il primo Ma che cazzo dici che è pappa Sì perché è Emma Levate Pappa Oh Cioè dai Sì però non è possibile Cioè mi sono arrivati tutti E sono arrivata quinta Sì a tratti Poi dipende Poi mentre quando ci si mette Eh ma dai mi sta andando al contrario Alatino No Sono delatino No vabbè sono quinta pure io adesso Cioè Sì capito Cioè ma che è È un attimo Un attimo di è Dalla fine Allora sono seconda Ti cazzo arriva Quinta Ah Zandark Bravo Zandark è bravo Ma però dai sei riuscito ad arrivare a seconda Mica male Eh infatti Guarda che tempi 50 secondi Stacca di 5 secondi Zandark Dai Pappa di primo Ti sei solamente emozionato Sei emozionato Improvvisamente mi avresti lanciato adesso Pure l'anima di un No Lascia sta Sì quando ti man Ti lanciano tutto È finita Cioè arrivi ultimo Ah ragazzi Io proporrei La sfida Tutti con il Signor lanciammerda Pietro Riproporrei Questa sfida Poi facciamo Tutti già far Ok poi tutti già far Voglio vedere Che cazzo succede Madonna Ci scorreggiamo A vicenda Tutti addosso Vai Tutti Tutti con Pietro Sì sì Tutti con Pietro Nezuko Leggo Zandark Nezuko Mettiti Pietro Vai vai Tutti con Pietro Pazzerò averlo mai usato Pietro Allora con La roba normale Non mi ricordo cosa fa Con quella caricata Lanci la merda Era così giusto Non mi ricordo Fatemi vedere Ah ok Lanci una roba Un timone Perfetto Ah quello normale Con quello è La merda Sì In teoria è fango Ma no non è vero Sicuramente la sua merda Ah ok Zandark Quindi la sorella Ha cambiato Ha lasciato il posto Chi è primo Pietro Abbiamo vinto tutti Mi piace Sono tutti uguali Capito Siete ridono Già immagino Che si riempira Tutto di merda È tanto Oddio Tontissima Madonna Mi fa morire È tantissima Oddio 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 Quanta Ma non finisce più È bello che vi direi Anche chi è primo Cioè però Ma perché non riesco a curvare Perché non sei capace Perché pietra è più pesante Devi curvare prima È pesantissimo Infatti Dai Dai Che palle Dai Io ho qualcuno davanti Ma non so Ci sia No non vedevo Io sto continuando A buttare Merda Yeah Arrivata Vediamo un po' Chi è il primo Ah Crazy Crazy ci ha fatto Il culo a tutti Con Pietro Ammazza Ci possiamo tutti Quasi cinque secondi Ma no 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 Ma no no Fa fa Sa Detessando tutti Eh Beh dai Quando lanciamo Tutti la merda Tutti appiccicati Era fantastico Dai Facciamo tutti Giafar Tutti Giafar Tutti Giafar Vediamo Dai Ma io proprio Sapere che c'è Giusto per Ok Così In avanti Così laterale Bene Perfetto È buono Perché effettivamente Se sei primo Usi perennemente il laterale Se sei dietro Usi quello davanti Usi quello davanti Effettivamente è purbo Non è come quello di Di Jasmine Che lancia Raja un po' a caso Zendark Sei Mulan Zendark Hai un bagliato universo Ora ci fa alcune Zendark Solo perché è diverso Solo perché è Mulan È Mulan Basta In realtà Mulan Si è Infiltrata Tra i Giafar Facendo finta Di essere un uomo Esatto Vedi perché Giafar È 0-2 Come numero È un 2002 Ah Madonna Che cazzo Che cazzo Ah ci miniamo tutti Aia Yes No no Vedo tutto al contrario Non capisco Un ca No vabbè Bellissimo Comunque Troppa soddisfazione Quando vedi la gente Che ti passa vicino E muore Tè Tè Ultimo giro Che che lancia i razzi No vabbè Doodle No, mi sei impallata Ma come ti sei impallata? Ero tra le due strade Mi spessivo ad andare Io ho tirato qualunque cosa su Zendr Ogni volta mi stava dietro Ogni volta Oh, che c***o L'ho fatto di c***o Mi sento tipo No, sono arrivata quinta Che c***o Perché? Che te era successo? E niente, perché c'era Faffa L'ho battuto veramente Di pochissimo Ecco, ma come? Ok, adesso sceglietevi personaggi Che volete provare Dai Faffa, hai detto in mezza che te ne vai Quindi ancora un'altra partita e te la fai Dai Faffa Io adesso vi lancio i razzi Sì, vi lancio i razzi Così indietro, così in avanti Vai Odio questo gioco, non è vero Tu lo ami Riav dei Gaston Non l'ho mai fatto Voi pagate un pre-to-win Attenzione, Crazy usa il drago inutile Col potere dell'immaginazione Vai, vediamo Vedremo, vedremo Vedremo, vedremo No, perché è spento, non è vero Faffa gioca Gioca, hai detto Fini alle dieci e mezza Dai Faffa Gioca con noi Dai Dai, mancano ancora dieci minuti Aspetta perché sono ancora lì Sei ancora qui C'è la tua anima qui Non è l'immaginazione È l'immaginazione Faffa, manchi solo tu Devi metterti pronto Vedi, non puoi Cioè, vedi Hai rotto tutto Adesso rientri E basta Dai, ora rientri Infatti Dai, non puoi lasciarci così Esatto È un segno Nanna, faffa, riaccendi Riaccendi Assolutamente Potrai anche rimuovere dal gruppo O bloccarti O segnalarti Rimuoviti al bluco Vai Dai Via Signala Ok Va bene, vai Oddio Chi c'è Eh, ma tu lo devi fare Quando guido Non quando non guido Niente Ho ricevuto una pulsecchiata Ma sono saltata Ah Ecco Il gatto dorme Intanto Sono disposto a riaccendere Per segnalare voi Riaccendi ora Allora Ma ti prego Ma Sally Sulle cose Ci ha scritto Sulle maniche Ha scritto Fearless Senza paura Cioè Ma chi? Cosa? Perché Senza paura No, perché lui è uno spaventatore No, perché mi si è spaventato Ancora Ecco Niente Ciao Ciao No No Questo è lo spirito di faffa Ci godo Ci godo Spirito di faffa Ci godo Cazzo Ma io sono Buzz Dai ti ar E ce la farò Dai Buzz Su Su Stiamo indietrissimo Tipo metà giro più avanti Ecco qua Dai ce la facciamo Dai 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 Vi raggiungo vi raggiungo Mi raggiungo Ma dai sei davanti Ma dai sei davanti Non dimmi un orologio Orologio Sono dietro Sto arrivando Sto arrivando dietro Che tanto Comunque l'inversione Sono le madonne pure Io non so voi Vanno veramente fastidio Pure perché Lo schermo che si gira Non è che vedi Lo schermo che si gira Eppure quando guidi Eh si Banno ma siete super avanti Ma perché Perché siete così avanti Non so Niente non ce l'ho fatta a recuperarvi Ma che hai fatto Sara Dove è rimasta a mezzo giro indietro Ma Debbie abbiamo recuperato L'altra volta che stavamo fermi E no perché mi è uscito solamente un orologio Quindi rip Rip Mi ha tenuto sempre a mezzo giro indietro Quindi lo ritrovo Buzz Vai Pronta Rompiamo le palle a Jack Un fuori Salve 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 Eccolo Il mio bimbo Il draghetto inutile mi ha fatto vincere Perché sei l'unico che sa usare quel drago Probabilmente Noi abbiamo fatto una partita solo con quel drago Praticamente quasi nessuno è stato colpito dalla sua abilità Quasi nessuno Con tutto che eravamo in sette E cioè Sta mezzo rincoglionito il mio micino Ecco Invece ti costa No Deco Siete pronti Si parte L'ho già messo pronto Bebop Abbiamo un Mike Wasosky E due Jafar Di nuovo la stessa Ale Per me sai che è al contrario O no Si è al contrario Vamos Con Jack in braccio Vai Vediamo Vediamo Piu Ma fo' velocissimo Crazy Chi mi lancia le bombe Le cose come faccio ad essere quarta? ero seconda ma che cosa sono seriti? è la prima volta che le vedo madonna dai ho preso il coso che inverte fanculo io ero rimasta glitchata sulla strada sembra giusto no le porte no yes ho preso un Jafar non so chi no io sono ultima allora no non riusco a recuperare Zendark mi riesco a recuperare Crazy dai che palle sta cosa dello schermo invertito qui I got it gotcha yes no che culo addosso si proprio ovviamente che culo guarda tu ma dog crazy ci stacca di 7 secondi madonna ma sei fortissimo fatti allora vediamo un po' che mi manca da provare mi ricordo più ora vi passo l'elenco l'ho provata l'ho provata lui pure Sally non mi ricordo se l'ho provato ah si l'ho provato poi inutile mi manca Ercole e Shang ah devo leggermi però la cosa che fa ah ma dai mi aiuto pure voi ma scusami ma non ha senso l'abilità di Ercole è la stessa ma una aiuta tutti una aiuta solo te perché? non lo so c'è è tipo Topolino ma più forte aspetta a chi ti riferisci però? perché Topolino non mi fa impazzire con il personaggio quello base eh quello Steambot non è male comunque la musica è veramente più triste senza le cose col copyright ma bettile è proprio adesso mi sto accorgendo che è proprio bruttina è molto tribale molto boh ah Ercole ah ok si effettivamente è vero perché dopo non l'abilità è molto simile nooo non sono partita con il coso aha no ho preso la natura che mi avete invertito mettetela di bullizzarmi ah ah come sono arrivata quindi ma che figo il coso di Topolino che cosa quando usi il turbo il battello ok dai 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 Ercole ma siamo distantissimi in generale allora chi è che lascia tutti sti cosi che inverte mamma mia da morire poi chi è chi è il secondo lo acchiappo è Giulia è Giulia è Giulia che mi sta annaquando taci smetti di annaquarmi Giulia con questa scia cioè il titanic ti chiappo ti chiappo ciao Sky ciao 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 Sky ciao Sky ecco pronte a perdere è salito quando sono iniziata ad andare con le persone proprio praticamente ecco ciao ciao io ho dovuto lavorare quindi non ho più guardato i G Sara mi sa pure ha dovuto studiare lo so Giorgia quindi alla fine avevamo detto mo vediamo grazie thank you thank you ma comunque scusate intanto rimetto la musica bella perché l'abbiamo testata e fa schifo quindi mettete quell'altra tanto se volete partecipare pjexkib 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 con me non ho provato non ho provato balù sì però non lo so però ti sto dicendo che adesso apprezzo di più provare i personaggi sabato con la Nintendo Switch non ci stavo capendo niente vado solo grazie grazie è pieno di roba quindi non te ne rendi conto ecco bene fa un po' schifo la sua abilità ma lo proviamo ma da quanto è brutto sì molto concordo intanto io l'ho portato proprio per non andare sopra voi o sotto e che hai portato stasera eh Sky la sei portato intanto entrate dai ah Dave the Diver quello poteva piacere a Georgia ma do perché l'hai scaricato su Epic Games tra tutte le piattaforme ma perché mi dà che sei ancora in live mh dici la verità stai streammando proprio si mi dava ancora che è in live cioè tuttora mi dà che è in live si allora è stato un errore che pensavi che c'era solo su Epic che effettivamente le persone normali lo prendono su Steam cioè chi è che lo prende chi è che usa Epic come cosa principale nessuno l'abbiamo preso solo per Fall Guys e per i giochi gratis in generale proprio cioè che sicuramente rifaranno sicuramente quindi ho sentito BS non è vero tu ci dici che sei ancora in live non è vero fammi un po' vedere ti giuro a me me lo dà voglio controllare vediamo un attimo guarda io te lo mando no a me non lo dà no no adesso è andato via è certo è andato via proprio in questo momento in questo momento ma perché dovrei mentire dimmi cioè che cosa mi comporta mentire no volevi portarci tutti sul suo canale di la verità sì 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 dai raga dai voglio giocare il codice Pjexib Pjexib in teoria l'avevo pure fissato però si è tolto il fissamento no non è vero è ancora fissato è fissato il codice tanto non vi sentivo ah ecco dai sì infatti ho notato che il primo giorno era ancora a pagamento su Steam la mattina e infatti ne stavamo parlando e però poi abbiamo aspettato il giorno dopo c'era metto pronto metto pronto ma ci siamo siamo tutti sì ok ah c'era la pubblicità pubblicità che poi Steam è stronzissimo ragazzi non so se ve ne siete accorti ma letteralmente 20 giorni prima che lo mettessero gratis l'avevano scontato a 20 euro e stava sempre scontato a 20 euro e poi il giorno dopo finita la promozione è diventato gratis cioè stronzissimi ah 9.15 19 ah epica a che ora invece beh va comunque per qualche ora dai faiatevi sti lupi ahu 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 attenzione Giulia prima che è successo Giulia non scorreggiare con Jafar per favore ah che bella la musica normale sì sono d'accordo ma sono uguali le sue abitità non sto capendo ah io sto avendo molto culo con gli oggettini che sto trovando perché sennò non mi schiedo ma veramente tanto culo perché io proprio cioè ok è un paperino dietro quindi sicuramente sarà Sky ora è davanti è Sky nooo chi mi fa male nooo c'ero vicina niente c'ero vicina niente tremendo bellissimo siamo a gruppi di due praticamente mamma mia fatto cagare ecco arrivato anche pappagallo ma perché proprio il problema principale è che non mi è capitato niente di fortunato proprio si dipende pure da quello dipende eh tipo quando ero sempre prima che non riuscivi a superarmi avevo sempre lo stesso cosa sì sì ogni volta stavo sempre lì dietro eh quindi ecco chi fa le zucche che non sono zucche balu ah è balu è balac e bala campeone shop addono qualche personaggio oppure intenzione di shop pare tra cui pochi che si possono shop pare penso che ci sia solo jack sparro il passo stagionale e chi altro ha tutta la roba di stitch mi sa che non mi sa e il pacchetto di bello e basta a se deve essere forza shop però quelli oddio magari probabile più avanti prima aggiungono tutta la roba disney comunque finiscono avete rotto le palle tutte ste bombe c'è party hard ecco perché e dai con ste cazzo di bombe si sono io che lascio i frutti che non sono zucche vai più veloce se lo prendi cioè non evitarli quelli dal bustino che ho un postino con la b e chi è che mi ha sparato la vita guarda questi due non capisco un cazzo quando mi invertono tutto oddio che culo ma cioè come cazzo hai fatto quando culo culo veramente perché ce l'avevo proprio attaccati alle chiappette o si sono menati tra di loro non ne ho idea io di pochissimo è tornato faffa eccolo qua ciao faffa il pass non si autocompera si però non costa tantissimo cioè nel senso effettivamente non è tutto questo prezzone cioè nel senso una parte di quei gettoni te li fai giocando online una parte te li fai in altri modi insomma ma dai papà ma dai ciao pappagallo grazie che hai giocato ciao buonanotte perché noi ci facciamo ancora un paio e poi beh sono d'accordo si si a un certo punto vedo soltanto boh allora un bastone di legno ah ma l'avevo già provato shang forse l'avevo già provato si che mi manca non manca più nessuno eh sara quando stai per andare al traguardo tira la epa verso il basso certo si era una merda si allora allora mi ributto sulla bestia questi qua anzi la facciamo un bello che mi è piaciuta l'ultima volta non è molto molto provinciale beh ci sta belle gasonne oh eh 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 te la coppietta perfetta Io fossi stata in bell Sì sì, levetta in basso a destra e vinci istantaneamente Verissimo, confermo Confermo tutto Aio Vai, menalo Menalo Che falle Mobili, Ikea Levati Oh, mamma mia Certo, è abbastanza utile come cosa Quando troverai una motivazione Poi non è neanche utile per, che ne so, se vai dalla parte sbagliata o simili E poi qui in questo gioco non esiste la retromarcia Non so se ci avete fatto caso Infatti quando ti giri è un casino Sì, infatti devi andare contro il muro fisso Così È l'unico modo Mi sei rallentato di botto coto Sullivan, madonna mia Devi prendere i paddini, paddini Non riesco a recuperarli Ma, raga, io ormai sto indietrissimo Dai No Dai Ehi, ma perché sto così indietro? Mi hanno picchiato male Perché loro due sono troppo fatti No Sono stato contro un muro circa 20 secondi Gli uccellini, penso di Belle Sono di Belle, sono di Belle Danno al turbo sia a voi che a me Allora, allora, allora Facciamo, facciamo, facciamo Woody, Woody Allen Aspetta Sky, il cittatore Sì, non so quale movimento astrale Se è arrivato terzo Perché c'è Sì Dai, mettiamo tutti il drago No, mi piace questa proposta però Tutti col drago Alla pista più brutta Con la velocità minima Madonna Alta è la minima Alta è la minima Modifica pilota Ah, quindi devo modificarlo Sì Il drago, il drago Mettiamo il drago Non so la pista Qual è quella più brutta Oddio, a me in realtà Non piace proprio tutta Agrab Come pista Però, però Dove sono quelle brutte di velocità? Arena di Abbre Queste qui falliche Ecco, ci facciamo questa fallica Non so da che lato però Cioè, verso l'infinito è oltre Parco 2 Guarda là Ok, sì La pista appena è perfetta Perché c'ho il coso? Perché c'ho il randal? Avevo messo il drago Ok Per me volevi dire Sì, sì Drago, drago Drago, drago E ho messo randal Così a caso Abisso digitale Con il potere dell'immaginazione Già voleva barare Beh, dai Col colore c'ero Colore Esatto Tutti già A far contro Mulan A caso Ah, sì Let's go Let's go Madonna Sta impaggianto Adoro che sembra tipo Che si fa di coca Cioè Ovviamente Quella cola Non quella Una lentezza incredibile Sto personaggio Lo senti come ansi Ma No, dove cazzo vado? No Che si è persa? Sì Ho preso il coso Che cazzo è sto robo? Ah, il suo potere Ma penso che qualcuno Mi abbia appena fatto Il potere dell'immaginazione Però era veramente inutile Che neanche me ne sono accorta Ahà Imagination Ma quanto è brutto Sto potere È veramente osceno Oh, sta diventando la terza Che è successo? Chi era dietro di me? Chi era dietro di me? Eeeh Zetta Eeeh Che è successo? Che così? Skywalk è l'ultimo Incredibile Quando mai? Quando mai? Che è successo? Che è successo? Infatti Sono stata l'ultima Fino a mo' Adesso ricambio tutto Rimetto altissimo Sceglietevi un personaggio Che più vi piace O che volete provare E facciamo l'ultima Ma non volevo Woody Volevo provare Bupip Bupip Ok Bupip E io voglio Woody Voodoo 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 Però la bestia Non mi dispiace È la bestia pure È vero The last one Vai così Dovevi studiare Faffa Era alle dieci e mezza Che dovevi andare via Vedi? Sei andato via prima E questa è stata la posizione È colpa del cane Colpa del cane Certo Ciao Ciao Bye Quindi non la guardi l'ultima Eh no Dici ormai Dieci minuti Ecco E ormai ci siamo Cioè Cinque minuti Che cos'è sta pista? Boom Ho preso qualcuno Eh Bene Però mi ha riempito anche di merda Nel mentre Ahia Pietro è una roba Incredibile Chiappo Giulia Chiappo Giulia No non l'ho presa Dove sono quei due? Li ho persi Sono avantissimo Ah Lancia merda Madonna mia Ma non ci riescono a evitare Sono tutti vicini vicini No rip Non riesco a recuperarli No 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 Guarda sono tutti qui Ma già è finita 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 Durata un minutino Un minutino e otto per te Per gli altri un minuto e tre Guardali che si passano un millisecondo Ma mi si è chiuso il gioco Come ti si è chiuso il gioco? È un segno È un segno È un segno È un segno Basta Passiamo un attimo al just chatting Questi ultimi quattro minuti Tre minuti Quanti ne mancano? Sei minuti Ecco Quattro Che sei? Sono un'ora e cinquantaquattro Stiamo facendo la live Sara Ah Ah Certo Ok Devo dire di arrivare alle sei Così Arriviamo alle sei ore Ci piace Così a caso Sì sì Arriviamoci dai Proprio ora Oggi in questo momento Ci arriviamo subito subito Guarda Staccare il controller Nel mentre Allora Mi è piaciuto il tuo Sì Porca troia Odio i cavi dei controller Come mai non stai usando il bluetooth? Perché è scarico Perché io lo so sempre con il bluetooth Ah ma domani che porti? Che io sto facendo praticamente una grafica al giorno Domani non c'è Non ci sono Io c'è Georgia Domani che porta Georgia? Sally Face penso Ah Ok Sì Ah ah Perché io praticamente Resta fa ogni giorno Praticamente Sì ho notato che ne stai facendo una al giorno Proprio Non riesco a avere il tempo di stare a casa due secondi Per dire Lo faccio E' quello è il mio problema Cioè veramente Due secondi di numero Capito? Questo è perché Tu ti sei voluta incastrare Facendo queste cose Altrimenti Prendiamo un'immagine a caso Prendiamo un'immagine a caso Da Da internet E spiaccicavamo sopra la data Tipo Ah Guarda se vuoi facciamo così e basta Basta Anni di impegno per avere tutto preciso Perfetto E poi basta E poi basta Prendiamo l'immagine da internet E appiccichiamoci sopra l'orario Domani Sally Face Ok allora preparo Sally Face Ecco vedete Sally Face A continuare Il capitolo della mortadella Vero? Non lo so Non lo so Andiamo un po' Giovedì Il collegio non può diventare Disney Speedstorm No No perché Giulia non c'è No Ragazzi mi dispiace Quindi sarà il collegio così Sta comoda Ma non hai detto che non ci sta Sì Eh no Giulia perché non guardi il gruppo? Oh avevi mandato il TikTok Dicendo che non c'era più Sì Eh non hai detto Non mi dite di guardare il gruppo E3C20 E la telegram Perché ragazzi scrivete Cioè Regà Non si può Non si può Io lavoro E mandate 200 messaggi 200 Va bene Un attimo Lo trovi un buco poi Non mentre lavori Dopo che è finito Dopo me lo leggo Mi dici come lo leggo? Che stai con gli occhi? Come lo leggi? No 200 messaggi Ma chi vese in cula Eh Cioè scusatemi 200 messaggi Ogni volta Io sto là e faccio Ma perché? Pessima Giulia Pessima Eh Posso capire che magari Non guardi i link Però Ma mandate 40.000 link Ecco Ecco Vedi Per partire Ho iniziato a parlare Vedi E sono più cose No niente Sì sì 200 link Io stavo là Dio Che senso Perché? Vabbè Ma i link spesso e volentieri Li evito anche io Proprio perché Non mi va di aprirli Cioè No No Poi l'audio Le cose Il tempo No No Però i messaggini Insomma Comunque si fa Era un rant di Giulia Che faceva Non apro il gruppo Uno di È il suo gruppo Lei non legge il suo gruppo Ma magari Fantastico Il problema è che Appunto Proprio Cioè Ingestibili Ok Allora Quindi domani è Mercoledì Mercoledì Ma sì Ma che problema C'era 11 ottobre Ma non c'era problema Per oggi Non c'era proprio problema Sicuramente è meglio Non programmare le storie Perché almeno possiamo Mettere il linkino Mmh Quale potrebbe essere Una cosa Mi se lo butto Adosso delle peggio Cosse Quindi alla fine Il collegio si rifà Ah no Ci hanno ripensato Ok Sì Mettere il giovedì Oh meno male No io sono contenta Cioè ero rimasta malissimo Che non Ho detto vabbè Boh non ho capito il famo però vabbè quindi lo stai recuperando anche quello vecchio oppure no io giovedì ho detto che nel caso ci sono ma non ho il computer per giocare nel senso ho un computer del caso eh sì 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 ah ok ecco nel senso il mio problema principale è che ho un computer un po' del caso appunto si fa il collegio perché tu non ci sei quindi hai il computer io ti prego no era divertente il coso del sottomarino perché veramente era un totale disagio perché sulla guerra in palestina facciamo un'intera live sui camaleonti mi sembra più interessante uh sì ho fatto la storia ok ogni giorno farò una storia yeee good job una live sulle misure sulle misure o così sulle misure poi è bruttissimo così posso essere sincera eppure Sara l'ha pensato no lui intendeva misura i biscotti i biscotti misura sì sì io per me tu pensavi proprio eh cosa misurare soprattutto sì sì i biscotti è strappa cioè siamo le tre civette detto cioè siamo degli uccelli più così che dobbiamo risponderti scusa il mio armadio è alto tre metri penso esattamente in quello stavo pensando proprio gli armadi quanto è alto il mio armadio proprio gli armadi proprio veramente gli armadi che maglia ho ho la maglia delle principesse no non è quella di Winnie the Pooh rip no non ho quella di Winnie the Pooh mi dispiace comunque non ho mai capito perché hanno fatto questa maglietta delle principesse con questo colore di merda ma infatti perché sul grigio le principesse ma che ne so ma non si fa su rosa sull'azzurrino su e a Highmark gli è piaciuto lo stomacolore che ne so il mio piede è giunto un piede e mezzo oppure 9 pollici ecco di culo l'hai contati bene i pollici sul tuo piede vai vediamo se c'è qualcuno ma siamo solo praticamente noi e Sky che portiamo Disney Spitz sì ultimamente sì cioè nessuno se lo sta inculando sono più all'estero le persone che se lo stanno filando già che tristezza già non c'è quasi nessuno infatti se vai sulla categoria il vuoto hanno dato vabbò eh sì oddio no in realtà qualcuno c'è dai stasera dai prova a far raid a qualcuno che più o meno sempre al nostro livello di vita vediamo un po' chi scegliere chi scegliere niente altre persone di sesso femminile dici già ah no questa è una persona di sesso femminile sembrava un maschio eccola già noi non favo un cazzo come ragazze quindi dicevo sì io risolto ancora in live no non sei più in live ma sono tutte persone di sesso femminile in questa cosa basta metti qualcos'altro metti Dreamlight Valley anche quello è femminile questo non capisco fatemi un attimo sentire la voce ok è un uomo è un uomo è un uomo non ha neanche la cam però ha 13 spettatori vai vai vabbè allora fatemelo allora aspettate aspettate allora perché voi trovate tutte femminile e noi maschili ottima domanda perché c'è concorrenza tra persone dello stesso fare è un uomo ok fatemi ricontrollare il nome perfetto coppia sì sì abbiamo trovato abbiamo trovato abbiamo trovato sì sì e va bene ragazzi è stato un piacioro perché insomma grazie che partecipate con noi a queste partite letali cattive tutte queste cose che si lanciano tutte insieme cioè sono piaciuti quelle di Mario Kart sì decisamente e di che dai cercheremo di portarlo un po' un po' questo è il nostro piano quindi ci organizziamo ma ci sono le trivette ecco ci sono le trivette va bene detto ciò siamo per andare con il raid tra 5 no con 5 sì quasi già sta andando un attimo noi vi ricordiamo domani c'è Giorgia per il resto ci rivediamo giovedì anche con il collegio buonasera a tutti partecipate al raid mi raccomando che prendete 250 punti a gratis e ciao 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 ciao